Grosso investimento sull'allenatore, ovviamente che è un allenatore diciamo che ha delle amicizie profonde e che quindi viene sostenuto con insistenza, altrimenti non avrebbe potuto fare tutto quello che ha fatto, ha fatto l'allenatore del Palermo, ha fatto l'allenatore della Under, insomma è rientrato nel giro con una squadra che apparentemente non poteva avere grandissimi obiettivi, poi invece si scopre che hanno fatto un mercato di tutto rispetto e quindi questa è una squadra da prendere con le pinze e da abbordare con grande attenzione, però per quanto riguarda Mangia secondo me hanno ragione tutte e due, ha ragione Zamparini a dire che è un presuntuoso, nel senso che lui si è presentato sempre al di sopra delle righe e quasi in maniera cattedratica nei confronti di quelli che lo ascoltavano, per quanto riguarda Mangia ha ragione anche lui a dire io sono ambizioso e dunque mi gioco le mie carte in questa maniera.